Possedeva droga, arrestato un elevatore di 43 anni, vaccinazioni anti-covid e il turno delle forze dell'ordine, palazzo di via Petri Auristano, asta deserta, alluvione 2020 in arrivo risorse. A voi telespettatori, ben ritrovati, sono 70 i nuovi casi in Sardegna oggi. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dello 0,6%. I guariti sono 132, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 220. Sul territorio provinciale di Auristano si registrano 4 nuovi casi. A Auristano città fermi i contagi e le guarigioni. Secondo decesso per Covid a Milis, comune della provincia di Auristano, si tratta di una donna che ha perso la sua battaglia contro il nemico invisibile. A comunicare la notizia il sindaco Sergio Vacca. Passiamo alla cronaca. Trovato in possesso di sostanze stupefacenti, arrestato un elevatore di Sola Russa. Tutti i dettagli nel nostro servizio. I militari del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Auristano, coadiuvati dai colleghi della stazione di Sola Russa e con il supporto di due unità cinofile dello squadrone eliportato a cacciatori di Sardegna di Abbasanta, hanno tratto in arresto MS, 43 anni, elevatore di Sola Russa. L'uomo, durante una consueta attività di controllo vili espletata in località Tanca Sagresia del comune di Sola Russa, è stato trovato in possesso di due piante di cannabis in fase di essicazione e di 50 kg di marijuana stoccato in diversi contenitori ermetici, nascosti in punti differenti dell'azienda e dei campi adibiti al pascolo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e MS, dopo le formalità consuete, è stato associato al carcere di Massama, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo a parlare di sanità. Vaccini anti-Covid tocca alle forze dell'ordine. Vediamo. La campagna di vaccinazione anti-Covid procede all'Asa 5 di Auristano che nei giorni scorsi ha ricevuto 1.320 dosi di vaccino Pfizer e 1.500 dosi di vaccino AstraZeneca. I vaccini Pfizer sono destinati a ultimare la somministrazione delle seconde dosi nelle case di riposo e comunità protette del territorio provinciale. Lo stesso vaccino viene in questi giorni usato per la vaccinazione di volontari, medici liberi professionisti, farmacisti o dontoiatri. Da questa settimana è partita in parallelo anche la vaccinazione del personale appartenente alle forze dell'ordine con le dosi AstraZeneca. Le somministrazioni partite ieri vengono effettuati nei tre distretti di Auristano, Alesterralba e Ghilarzabosa, dietro convocazione del personale addetto al punto di vaccinazione. Conclusa in queste categorie si procederà con la fascia degli ultraottantenni. Vaccini, prenotazioni tramite SMS, tanta la confusione. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa. I dettagli nel servizio. Vaccini anticovid per gli anziani ancora a rilento in Sardegna. A lanciare l'allarme il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa. Gli anziani sardi in questo momento si stanno ponendo la stessa domanda. Dove, come e quando ci si deve prenotare per fare il vaccino anticovid? Ieri, primo marzo, sarebbe dovuta iniziare la chiamata degli over 80. Una chiamata che dovrebbe avvenire tramite SMS sul cellulare dell'anziano. Ma chi non dovesse disporre di un telefono mobile o chi, pur avendone uno, non ha dimestichezza con la tecnologia, come deve comportarsi? Sul tema vaccini regna una confusione disarmante che non possiamo più tollerare. L'aggiunta Solinas ha aggiunto Ciusa, comuniche ai cittadini regole semplici, chiare e tempestive, chiarisca al più presto i dubbi degli anziani e delle persone più fragili, categorie che dovrebbero ricevere il vaccino a breve. E ora ci spostiamo a Ghilarza, ospedale dei Logu, ripresa graduale delle attività del laboratorio analisi. Vediamo. Scriviamo pure una piccola luce in fondo al tunnel. Il laboratorio analisi dell'ospedale dei Logu di Ghilarza ha ripreso la sua attività. Alcune ore assicurate ogni giorno da un biologo e da diversi tecnici. Il comitato civico, nato tempo fa, continua comunque a dare voce alle problematiche che riguardano la struttura ospedaliera. Quest'ora è da risolvere la chiusura del punto di primo intervento. Su quest'ultimo ancora nessuna certezza. Nei mesi scorsi sono sempre stati garantiti i prelievi nel nosocomio ghilarzese, ma dallo scorso luglio, quando è andato in pensione l'ultimo medico, gli esami venivano processati presso il nosocomio ristanese. Voltiamo pagina. Nascoste all'interno del furgone 700 ricci di mare. Il prodotto, ancora vive, è stato posto su sottoquestro e rigettato in mare. I dettagli nel servizio. Continua l'attività di contrasto alla pesca illegale. Lunedì 1 marzo, personale dell'ufficio circondariale marittimo di Bosa, guidato dal tenente di Vascello, capitano Fabrizio Frascella, nell'ambito della vigilanza sulla filiera della pesca, ha effettuato un posto di controllo lungo la strada provinciale Bosa-Alghero. Nell'ambito di tale attività è stato fermato un furgone all'interno del quale sono stati ritrovati circa 700 esemplali di riccio di mare, contenuti in alcuni cesti e prelevati senza nessuna autorizzazione, in violazione del regolamento regionale del 14 novembre 2020. Il prodotto, ancora vivo, è stato posto sotto sequestro e rigettato in mare. Al trasgressore è stata combinata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Nonostante l'emergenza pandemica da Covid-19, prosegue incessantemente l'attività di monitoraggio di tutto il litorale di giurisdizione di Bosa da parte del personale della Guardia costera, a tutela degli stock ITC protetti, dell'ambiente marino in generale e di tutti gli operatori autorizzati. La stagione della pesca del corallo in Sardegna partirà il prossimo 1 giugno e si concluderà il 30 settembre 2021 e la tassa per il rilascio delle autorizzazioni sarà ridotta in considerazione dell'emergenza Covid che ha inciso pesantemente sulle attività del settore. Lo ha deciso l'Aggiunta regionale che, su proposta dell'assessore dell'agricoltura Gabriella Murcia, nel corso dell'ultima seduta ha approvato una delibera con la nuova regolamentazione e le direttive per disciplinare la raccolta. Cambiamo argomento. Consiglio regionale Alfonso Marras lascia il partito dei riformatori. Sentiamo Paolo De Zogus. Alfonso Marras, consigliere regionale di Bosa ed ex assessore nella provincia di Oristano, eletto ora nelle liste dei riformatori, attuale presidente della Commissione Cultura, è entrato a far parte del gruppo sardista dopo un breve transito in quello misto. In una dichiarazione Fofo Marras giustifica questa sua scelta di campo considerandola più aderente al suo impegno politico senza comunque venir meno all'esperienza compiuta tra le fila dei riformatori. In consiglio regionale il gruppo dei quattro mori conta ora dieci rappresentanti, compreso il presidente Solinas. Dietro il Pisdaz, con sette consiglieri ciascuno, seguono la Lega e l'Udc. Il primo ne contava otto ma ha perso per strada il consigliere Saracano, passata ai riformatori, mentre l'Udc di Giorgio Oppi era partito con tre rappresentanti in assemblea, ai quali si sono aggiunti Domenico Gallus e Pietro Moro, che hanno lasciato 20-20 di Tunis. Il sempre irrequieto Antonello Perù, che è transitato da Forza Italia, ha aderito al movimento Cambiamo del presidente della regione Ligure Totti e in Sardegna l'Udc, dove ha prodato anche Franco Stara, unico eletto in Italia Viva. In consiglio regionale fare la conta dei trasferimenti da uno schieramento all'altro è sempre un rompicapo, mentre cresce l'attesa per come sarà il rimpasto primaverile della Giunta. Sono state pubblicate le disposizioni attuative che prevedono la data di apertura dei termini del nuovo bando, prevista per il 1 aprile 2021, per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento economico delle cooperative e dei consorsi di cooperative. Cambiamo argomento, Oristano, Palazzi di Via Petri, asta ancora deserta. Sentiamo Paolo De Sogus. Salta ancora una volta l'asta giudiziaria per la vendita dei due palazzi in costruzione nella Via Dorando Petri, appena dopo la Tarros e prima degli uffici finanziari. Il tentativo esperito presso il Tribunale di Cagliari ancora una volta è andato a vuoto, in quanto nessun acquirente si è fatto avanti, nonostante il valore delle due costruzioni dai 3 milioni iniziali siano scesi a poco più della metà. Il professionista che cura l'operazione ripartirà presto con una nuova procedura e si presume con una ulteriore riduzione del costo degli edifici. È certo che intervenire in una operazione del genere significa disporre di capitali ingenti, non solo al momento del loro acquisto ma soprattutto per reimpiantare un cantiere che dovrebbe completare le due torre che si sviluppano per otto piani ciascuna. Ben 72 gli appartamenti che si prevedeva di realizzare, compresa una zona commerciale a piano terra e un semi interrato a due piani destinati a parcheggi e altri servizi, complesso appetibile ma che per completarlo e renderlo funzionale richiede, come si è detto, ingenti investimenti. Alluvione novembre 2020. In arrivo nuove risorse per le aziende agricole più danneggiate. Vediamo. Sono in arrivo nuove risorse per le aziende agricole gravemente danneggiate dall'alluvione che nel novembre scorso ha devastato gran parte delle campagne sarde. La giunta sull'Inas ha approvato la delibera che riconosce il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatesi dal 27 al 29 novembre, accelerando così gli indennizi dei danni e chiedendo al Ministero delle Politiche Agricole l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale. Già dall'inizio di dicembre, ha affermato l'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia, abbiamo incaricato l'Agenzia Laure di effettuare i sopralluoghi nelle imprese agricole dei comuni interessati dalle piogge eccezionali e dalle inondazioni del novembre scorso. In base a tali relazioni è necessario distinguere due principali avversità climatiche, quella riferita al periodo compreso fra il 27 e il 29 novembre, che ha raggiunto il culmine il 28, causando la perdita di tre vite umane alla comunità di Bitti e molti danni a strutture, infrastrutture e produzioni agricole in diversi territori, e le piogge persistenti che da fine novembre fino al mese di gennaio. Per queste ultime sono ancora in corso gli accertamenti sui danni verificatesi. Passiamo ad un altro argomento. Cultura, la città di Eleonora, sconta colpevoli rallentamenti. Il punto di Paolo De Zogus. Sono passati anni da quando venne avviata l'iniziale tessitura che doveva portare alla istituzione del Museo del Giudicato d'Arborea, individuando nel Palazzo d'Arcaesi la sua sede naturale in collegamento col vicino Palazzo Parpaglia che ospita l'antiquare un arborense. L'idea iniziale era quella di dare vita ad un polo museale che portasse a ridare slancio alla gestione del museo esistente anche attraverso un programma che ne consentisse gli accessi finalizzati alla conoscenza del patrimonio custodito nelle sale e nelle stanze del palazzo che fu di Salvatore Parpaglia, deputato e senatore del Regno e successivamente sindaco di Oristano. Ci si è invece fermati alla installazione del pur utilissimo museo tattile per i non vedenti, iniziativa nodevole sotto tutti i punti di vista ma non sufficiente, ad arrestare i segni di un declino gestionale che occorre invertire quanto al Museo del Giudicato. Negli archivi della provincia occlusi da tempo è probabile che la traccia dell'impianto iniziale esista ancora, anche se più nessuno guarda le carte di un passato tutto sommato recente a quando idee, intuizioni e propositi sembravano cose fatte, l'avvertenza oristano, l'intesa istituzionale, la progettazione integrata, la marcia per il lavoro e persino l'attivazione dello scalo aereo di Fenoso che sulla pista ha lasciato solo una scia di debiti. Dall'8 marzo, oltre al servizio prestiti, il Centro Servizi Culturali Ulla di Oristano riattiva una postazione internet, una postazione visione audiovisivi e 5 spazi studio singoli secondo le seguenti modalità. L'utente potrà accedere al Centro Servizi Culturali in solo dietro prenotazione telefonica ed esclusivamente per i servizi soprelencati. Gli orari per le prenotazioni telefoniche sono da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 chiamando il numero 0783 211 656. E ora ci spostiamo a Macomer, Assemblea Ufficiale della Rete delle Associazioni. Sentiamo Pier Gavino Vacca. Si è tenuta a Macomer l'Assemblea Ufficiale della Rete delle Associazioni per la presentazione dell'associazione stessa e del Manifesto per lo sviluppo delle aree interne. Un grave pericolo incombe sulla Sardegna, lo spopolamento delle zone interne, con il rischio di un effetto ciambella, ovvero il vuoto nel territorio più interno ed una concentrazione sulla fascia costiera, ma comunque un numero sempre minore di abitanti. Alcuni paesi hanno un indice di invecchiamento talmente sproporzionato in direzione dei più vegliardi, da far temere che fra non molti anni scompariranno dalla carta geografica. Con la scomparsa dei centri più interni scompariranno a buona fetta della cultura e della storia dell'isola. Paradossalmente la pandemia corrente ha messo in evidenza come una permanenza in un luogo meno caotico ed affollato costituisca un modo più sano di vivere, al punto che fior di urbanisti i quali Boeri, Toscani o Clemente propongono di riabitare i paesi. In assenza di proposta, men che meno dei partiti politici, una quarantina di associazioni in barba ai postulati di Bauman e della sua società liquida hanno pensato bene di riunirsi per esaminare la situazione e fare proposte. Si tratta di associazioni di varia natura, di carattere generalmente culturali alle quali si affianca a Lanci Sardegna, che ha già formulato delle proposte sul tema. Nessun colore politico né si va contro nessuno. Nel corso della prima assemblea ufficiale che si è tenuta preso il centro intermodale di Macomeri di collegamento streaming con altri relatori, si sono esaminati vari aspetti della questione. Si tratta in primo luogo di rivendicare i panni di dignità tra le zone interne e il tessuto urbano, facendo leva sul diritto costituzionale alle pari opportunità per chiunque e rivendicando quindi la permanenza dei servizi essenziali. La sanità prima di tutto, che visto il recente programma di tagli, ha dimostrato con la pandemia la sua inadeguatezza. Poi, barone in second ordine, di importanza a una buona scuola che, vista la grande percentuale di abbandoni in Sardegna, andrebbe rivista nell'orientamento. Anche gli asili nido, che aiutino le famiglie. Terzo, ma anch'esso importante, il problema dei trasporti e delle vie di comunicazione. Un vero disastro nell'isola. Va da sé che con questo si comprendano le strade digitali, che favoriscono lo smart working. Necessario anche un nuovo tipo di sviluppo, che parta anche dalla valorizzazione dell'interno. Per fare questo è urgente decentrare i servizi importanti, come, sull'esempio della Corsica, l'università che è collegata al centro con corte. Si tratta quindi di favorire la permanenza nei piccoli paesi, creando le condizioni necessarie, ma anche incoraggiare la flusso di nuovi abitanti. Ora la rete, che in primo luogo appoggerà le richieste del Lanci, continuerà nell'esempio l'esame della situazione per formulare le proposte da presentare alla Regione, rilanciando la necessità di un nuovo piano di rinascito. L'alternativa è una catastrofe antropologica che minaccia di far scomparire accanto agli abitanti un enorme patrimonio culturale. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. E ora vi lascio alle notizie nazionali. Buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.